Noi una canzone adesso non ce la vogliamo mettere però sono certo che il cuore di tutti i nostri ascoltatori catanesi in particolare si riempirà di calore quando sapranno che qui insieme a noi seduto accanto a Fabio Formosa c'è niente di meno che Leo Gullotta Ma così pazzi proprio Così pazzi Come vuoi chiamare maestro, professore, Leo Leo mi piace Leo, mi devi dare del Leo Ti do del Leo Ti do del Leo Va bene? Va bene Allora Casemo ma che bella questa struttura radiofonica dove ho il piacere di essere ospite e dove con Alla Catalla Alla Catalla si chiama Alla Catalla Che è bello Che è un modo anche non solo di giocare dove si parla, si discute Si ascolta musica ma si gioca Ma si gioca anche un po' per smidizzare la pesantezza dei tempi E i tempi sono chi neca sole Esatto quindi Radio Studio Centrale con Alla Catalla Tu sai Cacciuviro in un programma a mattina dei 7 all'11 Ma io l'ho fatta per tanti anni la radio a Rai 1 proprio dai tempi di trasmissione del mattino C'è un motivo per cui Leo Gullotta è a Catania perché c'è dal giorno 7 di febbraio e ci sarà fino al giorno 26 perché sta portando in scena le allegre comari di Windsor Ormai da due anni per tutta l'Italia Capitava Catania quindi grande sorriso, grande ossigenazione per quanto me riguarda Al Teatro Verga allo stabile di Catania dove io 50 anni fa sono nato ragazzino Mi chiamavano Gullottino E quindi ritornare sempre soprattutto nella sede dove tu sei nato Dove per una serie di circostanze che non sto qua a spiegare Ma non sapevo niente perché io nascevo futtino a Catania E lo so lo so anche mio padre Io ero la parrocchia da parte piccione Esatto Mi sono ritrovato professionalmente a circa 14 anni all'interno e all'avvio inaugurale del Teatro Stabile di Catania Con tutta una presenza di meravigliosi intepide che andavano da Turiferro Insomma c'erano tutti Michele Abruzzo Michele Abruzzo Grandi registi Insomma ci stesi più i 10 anni Mi sono formato Se non avesse fatto l'attore Leo Gullotta che avrebbe voluto fare nella vita? Sarei un ex insegnante di disegno e storie dell'arte Non ho mai professato perché appunto a 14 anni cominciai a fare questo mestere Noi eravamo sei in famiglia, sei figli Era l'ultimo, io non è uscito paverra Io sono stato un gioioso incontro Un bastonetto dai vicari Praticamente sì Ma un gioioso incontro sessuale fine guerra tra papà e mamma Ah ecco Giosamente è arrivato Leopoldo E questo lo dico a molti amici giovani in ascolto Studiare, cririrmi È una cosa un buttante No non vi preoccupate Non studiate i chiusci Cadevi a raccomandazione Che tanto si arriva lo stesso Invece no No perché la preparazione paga sempre Ma sai io dico sempre che Apparire E quindi tutti fanno la cussa per apparire nella televisione Come per l'ufficializzazione di esistenza Non era così Apparire è un po' morire Cioè apparite e poi non sapete fare i chiusmenti Oggi i picciotti non volono fare la gavetta Cioè la conoscenza lenta e progressiva Per sapere meglio qualsiasi tipo di professione Ovviamente anche per quanto riguarda lo spettacolo I soldi facili non portano mai a niente O comunque all'apparire e arrivare subito ad un traguardo Ma non è i soldi facili E soprattutto vendere la propria dignità E questo è il messaggio devastante Che hanno dato Ma ai vostri figli volete dare un segnale Ecco impegnatevi Non cominciate a dire Ah no io non faccio niente Su tutto stisse No mi dispiace Secondo te Leo Noi siamo un po' masochisti al sud Ci piace un po' soffrire Ci zuppiamo un po' il pane Ma questa è la storia Perché tu pensa che io per eccellenza Dico sempre che Chi nasce al sud Ha sicuramente Quindi al sole Sicuramente ha la materia grigia più brillante Inevitabilmente Lo dice la scienza Ma noi siamo per eccellenza I diversi Perché nel nostro sangue Nella nostra terra In questo nostro sud Sono passati nei secoli Una quintalata di dominazione Sono arrivati Hanno apigliato Se ne hanno aiuto Per 21 anni gli italiani Hanno riso col parietà Mi hanno dato la possibilità Di entrare nelle loro case Questo trio Gullotta Il grande Leonello Pippo Franco Due veri autori Di varietà Castellacci e Pingitore Tutto un gruppo di giovani Al seguito Cresciuti con noi Insomma Una bella Una bella storia Sì 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 Mi ricordo l'arresto di Riina Noi andavamo In onda di sabato E fu arrestato Insomma Nelle ore pomeridiane In pochissimo Abbiamo organizzato L'apertura dello spettacolo Corriina Che entrava E quindi Grottescamente Ironicamente Ecco Leo Gullotta È tifoso di calcio Io Non vedo Come non vedo Molte cose In questo nostro paese Tra questi Il calcio Che è diventato Una cosa Non onesta Non sana Non c'è più Il gioco del pallone No Non c'è più Ci sono interessi Bassi A livelli Di tutti i tipi Il talento È come l'atleta L'atleta Il grande atleta Si allena tutti i giorni Continuamente Se uno si vuole Piggiare la patente E non lave Tu frequenti L'autoscuola Ma non è capi Chi ti piglia la patente E hai frequentato L'autoscuola Che ti hanno fatto sapere Come omotori Subito Può diventare Schumacher Ecco Ci vuole la pratica Io consiglio Di andare a vedere Lo spettacolo In scena Ancora al Teatro Verga Con Leo Gullotta E tanti altri attori Circa 24 persone Sul palco Che si chiama Le Allegri Comari Di Windsor Noi salutiamo E ringraziamo Ancora una volta Leo Gullotta Alla Catalla Sono io Che ringrazio Saluto tutti gli amici Che gentilmente Hanno scritto E qui Da Radio Studio Centrale Alla Catalla Con tutto Cori Grazie Leo Grazie Leo Grazie